...di assoluta sperequazione, poi vedi quando l'ho detto io nessuno ha mosso, poi la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, non ci voleva il leguleio da strapazzo che si chiama Franco Gabrielli per capire che la legge era incostituzionale, ma è una legge che per tutto il 2011 ha condizionato la vicenda delle, quelle che io chiamai, se lei si va a riprendere le mie dichiarazioni, le alluvioni dimenticate, il Metapontino, le Marche, Saponara e tutte le varie cruci di questa via crucis della iniquità, perché poi questo è, vedete, io siccome mi considero sempre prima di tutto un cittadino, prima di tutto un funzionario che era stato, trovo che la cosa meno sostenibile non è il fatto che io debba patire una condizione, è che la mia condizione sia valutata, come diceva correttamente lei, in maniera assolutamente diversa a seconda dei momenti, della latitudine, del clamore mediatico che si riferisce a una vicenda e dico sempre questo, ma un cittadino di Saponara che paga le tasse, perché non ha gli stessi diritti di un cittadino di Verona piuttosto che di Vicenza, piuttosto che di Firenze o di un'altra città italiana, allora c'è qualcosa che non va, ed è il fatto che innanzitutto io sono un convinto assertore, non me ne voglia, che ormai il sistema paese non è più in grado di sopportare in maniera adeguata queste cose, per cui ci vuole l'assicurazione obligatoria, un'assicurazione assistita dallo Stato, chiamatela come volete, siccome negli altri paesi funziona così, almeno quelli più evoluti, perché lo Stato oggi non è più in grado di sostenere in maniera pereguata, in maniera equa gli esiti di eventi calamitosi, non è più in grado di farlo, non ci vuole lo scienziato di Bruxelles o quello di Francoforte per certificarci che oggi lo Stato, inteso nella sua complessità, quindi lo Stato centrale, le regioni, i comuni, oggi non sono più in grado di dare risposte certe, ma soprattutto eque. Allora, questo è un tema che però sono i legislatori che dovranno metterci in mano, ci dovranno dire, signori, così non va. Io in questi tre anni ho subito tre interventi, non tre interventi chirurgici, ma tre interventi normativi, anzi per la precisione ne ho subito cinque, la legge 10, il DL 59, la legge 100, il DL 93, la legge 119 e tutti hanno cercato di mettere le pezze a colori rispetto a una situazione che ha questa origine. In tutto questo, nonostante ci fosse una legge dello Stato, la legge 100, il governo precedente all'attuale, nella legge di stabilità, non ha finanziato il Fondo di Protezione Civile. Lei si scandalizza, virgola giustamente, virgola del fatto che oggi abbiano messo 50 milioni, se mi permette io mi scandalizzo ancora di più del fatto che prima non ci avessero messo nemmeno un soldo. Ed è il motivo molto spesso dei tempi lunghi che si realizzano tra l'evento calamitoso e l'erogazione. Se lei pensa che nella mia Toscana, per il terremoto della Luminciana e della Garfagnana, il Consiglio dei Ministri ha decretato il 25 di giugno lo Stato d'emergenza, mettendoci 3 milioni, non 30 milioni, 3 milioni, e io ancora oggi quei 3 milioni non ce l'ho. Io credo che già questo significa che qualcosa non basta. Ma sarebbe estremamente poco gentile e improvvido venire qua e ribaltare il tavolo, lei viene a parlare dei miei problemi, io parlo dei miei, ma i miei problemi sono anche i nostri. Vicenda del 7 e dell'8 di ottobre. La vicenda del 7 e dell'8 di ottobre ha una serie di situazioni particolari. Perché è vero, come ha detto lei, che dall'ottobre del 2012 le regioni che intendono accedere al meccanismo della dichiarazione dello Stato d'emergenza nazionale non possono limitarsi alla dichiarazione di giunta, caro governo, dacci lo Stato d'emergenza. Cioè per me, con tutto rispetto, è carta straccia. Nel senso che se, e perché dico questo? Perché nella materia di protezione civile, che è materia concorrente, è lo Stato che dà le direttive, poi le regioni fanno le norme di dettaglio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con una sua direttiva, nell'ottobre del 2012 ha detto, cara regioni, se tu vuoi la dichiarazione dello Stato d'emergenza, mi devi produrre questo, 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 questo e quest'altro. Perché? Ma per una semplicissima ragione. Siccome il principio che regola tutto il sistema è un principio sussidiario, in base al quale il Comune non ce la fa, interviene l'organo territorialmente solo, non ce la fa quell'altro, non ce la fa questo, interviene lo Stato. E allora per chiedere lo Stato d'emergenza, la regione deve in qualche modo certificare che la richiesta dello Stato d'emergenza è a base solide. Quindi deve fare la richiesta, la deve documentare e il Dipartimento poi va e verifica in maniera ovviamente speditiva quella che è la corrispondenza delle cose dichiarate alle cose effettivamente realizzate. In effetti, nella vicenda del 7 e dell'8, che tra l'altro ha riguardato una parte di territorio a cavallo di due regioni, una regione ha mandato la documentazione in una determinata data e il 15 di novembre il governo ha dichiarato lo Stato d'emergenza, quindi non a Sardegna, a Puglia. Da quest'altra parte le carte sono arrivate un po' più tardi e quindi sono arrivate il 20 di novembre e noi abbiamo mandato il tutto il 29 di novembre al governo. Qual è stata la questione per la quale oggi mi sento senza tema di essere smentito di rassicurarla e quindi di invitarla a recedere dallo sciopero della Stato, è che al momento il governo ha tre emergenze che deve decretare, Puglia, Basilicata 7-8, Marche e Aosta. Queste tre hanno un plafon tale da essere ampiamente ricompreso nel fondo, per cui uno dei prossimi consigli dei ministri, che cosa ha fatto il governo? Il governo non ha inteso soprattutto il ministero dell'economia recuperare altre somme nell'ultimo mese di gestione finanziaria aspettando l'inizio dell'esercizio finanziario 2014, che come dicevo prima al viceministro ovviamente sulla pelle dei cittadini anche un mese ha il suo significato. Da un punto di vista contabile un mese è un dodicesimo per cui si può fare a dicembre, si può fare a gennaio. Ecco perché io oggi le posso dire, e una delle cose di cui vado più fiero è che io non faccio mai promesse di cui non abbia in qualche modo contezza o certezza. Oggi vi posso dire che queste sono le prime tre pratiche che il Consiglio dei Ministri si troverà nel mese di gennaio, non so quando faranno il prossimo mese, ma saranno nella condizione di avere il fondo rifinanziato e quindi potranno essere individuate le somme necessarie rispetto al fondo stesso. Che cosa succederà poi? Innanzitutto quella non è l'ordinanza perché lei deve sapere che dal 16 di maggio del 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri, siccome gli hanno spiegato che con la protezione civile ci si fa male, non sto scazzando. Allora qualche consigliore gli ha detto, Presidente con la protezione civile ci si fa male, quindi le ordinanze non le firmi lei, le faccia firmare al capo del Dipartimento della Protezione Civile. Infatti le ordinanze oggi le firmo io, io ho qualche dubbio, perché da un punto di vista di architettura costituzionale il Presidente del Consiglio fa norme extraordine perché è garantito dall'articolo 95 della Costituzione. Un semplice funzionario dello Stato mi riesce un po' più complicato che in base a una norma ordinaria possa derogare addirittura tutte le leggi. Ma questo poi... No, ci sono problemi che poi... No, lo mettiamo in una busta, vedrà che fra qualche anno salterà fuori qualcuno che farà una considerazione di questo tipo. Dichiarata lo Stato d'emergenza, io nel giro di pochi giorni faccio l'ordinanza per cui nomino un commissario. Il quale commissario che cosa fa? Fa essenzialmente tre cose all'inizio, anzi ne fa una quarta, che sarebbe quella della perimetrazione dell'area dell'evento. Fatta la perimetrazione fa la ricognizione di tutte quelle che sono le spese effettuate nella somma urgenza, fa la ricognizione delle esigenze di assistenza alla popolazione, quindi se persone che non sono ancora fuori casa o persone che sono state fuori casa per un certo periodo o persone che stanno in albergo o persone che in qualche modo hanno un problema di assistenza e poi fa i primi interventi per la dimenticazione del rischio. Poi, e questa è la novità della legge 119 rispetto alle leggi precedenti, fa la ricognizione dei danni pubblici e privati. Laddove per i privati non sono solo quelli che attengono al singolo cittadino ma anche all'attività imprenditoriale. Fatta questa ricognizione la manda al Dipartimento che a sua volta la manda al Governo per vedere se ci sono dei soldi da mettere su questa posta. Questa oggi è l'architettiva, con una precisazione fondamentale che con la legge 119 i stati emergenziali non possono durare più di un anno. Quindi tutto quello che può essere fatto da un punto di vista emergenziale si deve consumare in un anno. Poi le attività possono anche realizzarsi in una fase successiva, ma gli impegni e la definizione di queste attività devono esaurirsi nell'anno, ovviamente nei limiti delle risorse messe a disposizione.